Ciao a tutti, sono Stefano Conti del gruppo Bessoni in CPA, seguo il discorso vendite Jeep. Oggi vi presentiamo la nuova Jeep Wrangler, saliamo a bordo per un test drive. Ci troviamo a bordo della nuova Jeep Wrangler, qui stiamo provando in specifico l'allestimento Sara, motorizzazione 2.8, 200 cavalli, motore di grandissima coppia. Abbiamo di serie su questo allestimento, pelle, cerchi 18, clima automatico, sedili riscaldati. Come tutte le Jeep, il vero DNA Jeep si ritrova proprio su questa macchina, dove abbiamo la possibilità di avere la trazione posteriore, più l'inserimento delle 4x4 permanenti e anche le marce ridotte, questa tipologia di macchina. Macchina che si può utilizzare sia su strada, tranquillamente, con le nuove modifiche che sono state fatte nel nuovo allestimento, più anche la classica vocazione del Wrangler, è una classica vocazione fuoristradistica. Specifico, questo è l'allestimento Sara, c'è anche per chi volesse avere l'estremo nella gamma Wrangler, l'allestimento Rubicon, che monta due blocchi, anteriore e posteriore e del differenziale centrale, più anche il kit delle super ridotte. Quindi l'allestimento Rubicon sempre 2,8-200 cavalli e si può avere su tutte e due sia Sara che Rubicon anche nella motorizzazione benzina 3,6. Su questo allestimento qua abbiamo anche la possibilità di avere il navigatore come optional, come possiamo vedere navigatore a mappe, sempre tutto touch screen, clima automatico, sedili riscaldati e la possibilità, la cosa bella logicamente del Wrangler è la possibilità di aprirlo completamente. Possiamo aprire la parte anteriore e addirittura anche l'artop posteriore, quindi diventa come un cabrio, però tecnologicamente con il fascino di avere in mano una Jeep, la vera Jeep Wrangler. Eccoci appena rientrati dal test drive della nuova Jeep Wrangler, vi aspettiamo, adesso tocca solo a voi venire a provarla nelle nostre concessionarie del gruppo Bossoni, vi aspettiamo per un test drive. Grazie per la visione!